Buongiorno coccodrilli mi viene da dire una cosa stamattina fa come? come? c'è la bici del non eh oh ma imparo a parcheggiarla la bicicletta perché no no l'ho messa a mezzo si ha chiuso il traffico è vero ora fa che esca anche la tua stai a vedere ma che? quando ha segnato quando ha segnato il secondo gol all'Italia ha saltato ha scocciato anche il ventilatore come mi sto facendo sarebbe di mandarlo è l'impressione attacchi le cose va bene senti come suona il sottopalla è il sottopalla che suona senti il cincilla come suona senti il cincilla come suona dai e tu più forte più forte più forte dai e dai e giù vai buongiorno buongiorno incredibile direttamente da piazza Mazzini oh yeah abbiamo un DJ set vai vai Filippe vai vai Filippe don 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 oh no oh no sto cambio toccherà regolarlo oh no toccare regolarlo ma toccare regolarlo o no che toccare regolarlo no che toccare regolarlo la testa tua e dopo e dopo questa del cazzo no fate swipe andate a vedere questi signori qua come hanno reagito alla partita al risultato della partita dell'Italia e se siete anche voi degli azzurri lasciate un commento con una bella bandiera dell'Italia clacson aspetta che scappa il tre decimeno no vi faccio vedere una cosa questa canottiera personalizzata io ho scelto il numero 88 se fate swipe potrete acquistare questa canottiera con il vostro numero partendo in ordine crescente quindi nonna marì in più si acquistano un prodotto su www.carlettolive.com che succede? facciamo le tagliatelle tagliatelle le tagliatelle potrete avere l'opportunità di venire a pranzo qua qua eh nonna marì qua 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 tagliatelle pipe e c'è anche la canottiera personalizzata eh fa l'occhiolino fa l'occhiolino vuoi sbattare questo è fa? eh mi ha messo le gocce e adesso? eh adesso posso da 5 minuti e non metterla e dopo? e dopo vuoi già fa culo oh che bello essere andato a f*** così per solidarietà va bene? eh sto di qui vicino a te per solidarietà si come se avessi messo le gocce così tutto con le gocce si tutto con le gocce così si tutto con le gocce te dico io fa tutte le gocce così anche io vicino a te con le gocce si un pochino vicino a te con le gocce si si mannaggia alzare no guarda che c'è sta di qui ho tutto questo cario eh bravo che metti le goccine si anche io voglio essere gocciato si un po' di goccine anche io dai un po' di goccine fammi mettere le goccine fammi mettere le goccine e sta zitto mannaggia ma eh ma possibili cosa c'è avanti tutto sto bene con te così si è o no oh fa anche il mucchino si fa la mucca mi piace la mucca si tutto bello gocciato si così smettela ah fa 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 che stai fa 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 mamma mia che pasta chi l'ha fatta questa pasta mamma l'ha fatta io e anche Nicola eh io Nicola chiamo il maestro oggi grande oggi abbiamo soliti 50 grammi di pasta eccoli ma tutta questa pasta ripastata con doppio pesce ripesciato con triplo gambero e quadruplo cadramaro che dieta è oh oh no che dieta è quindi che dieta è oh no che dieta è quella che mi vuoi cazzo mia e dopo e tu qua vuoi e poi e poi io ho sentito hai sentito sempre quello che il papa ha bestemmiato il papa ha bestemmiato no ma tu sei embriagato sei embriagato ha bestemmiato ma via ma la detta grossa va via dice gli era cascato gli era cascato un martello su un piede perché stia attaccando un quadro della madonna ma guarda che non l'era vista scemata c'è capito stava a piccare il quadro gli era cascato e ha detto tira un piatto una giornataccia le minacce no non ci vai a fare la cosa sarà una fake news va via anche fa il piede sta fermo scemo che è che ti ha fatto e tira il palo di braccia smettere questo pelo lui ha il pelo in volte andrà bene secondo me tocca da io tu sai oppure col colla che ricordi come faceva come faceva come un coglione come faceva o no che sciacqua la mamma la porca saluta ciao foller ciao questo e e e e aspetta ti trema il braccio mi tremmi i coglioni mi saluti oh eh dammi un bacetto cioè oggi i ferie c'hai torno domani va bene no no almeno fa una settimana ballo il cinciname non c'è il complano di rock il complano di rock fai gli auguri chi è Lu che gli auguri o gli auguri chi è Lu è un figlio di una mignotta no no oggi fa due anni tu due anni d'amore tu sei un figlio di una mignotta tu 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 ciao dammi un bacio dammi un altro l'ultimo e baffanzino dai andate in bacio va nia vale sulla bocca al nonnino fammi piastro goccia di caffè ma non ha già il cazzo si fa e e di gingin bashon every spill of bass there's bitchy maccacchion e I wanna sgashon GB wanna spend his bitty vittest ration l'ho visto affare a tutti i rile che fanno e this man is bashon amore niente sempre al bagno o ce l'ho o non ce l'ho sempre al bagno comunque niente sono arrivato qua a San vero vedete come si gira perchè si chiama Fabio quindi potete utilizzare anche per chiamare persone ma guarda mamma mia ragazzi come si gira crudo bello crudo la luflitto è luflitto ma vuole sorpassarmi in bici e nocciolina mamma mia con la bici che bella si con la bici si l'altro gruppo è distaccato ci sono le alghe no è normale no fanno schifo eh si è buono e dopo se le mangiano sul piattino oh questa alga è buonissima al ristorante questa alga è fantastica quanta pazienza ci vuole dove stiamo a cena non lo so dai dillo non lo so non lo sai dove stiamo a cena da non lo so almeno puoi dire che abbiamo mangiato dai dillo no è quella cosa il no il su non saprei secondo me il sushi sono arrivate le alghe ecco queste stavano oggi sul mare le schifavate che rire le donne assun...